Nasce la rivista con la traversa, te la sei riguardata con l'azione? Sì, sì, mi dispiace ancora un po' perché stiamo cercando di fare gole, comunque ho sbagliato un po' io sulla rifinitura della giocata. C'è stata questa palla di gatto da sinistra dopo una bella ripartenza, hai sbagliato forse il primo controllo, come è andata? Sì, sì, siamo stati bravi a ripartire dalla metà campo in velocità, li abbiamo presi bene, ho allargato la palla e ho cercato di andare subito in aria. Massi mi ha dato una bella palla, l'ho stoppato un po' in avanti e ho calciato di esterno che pensavo che era meglio e è andato un po' sopra. Per fortuna abbiamo fatto una bella partita, magari abbiamo stati più positivi di altre volte, abbiamo giocato con un modulo molto offensivo che personalmente mi è piaciuto troppo. Spero che abbiano visto che abbiamo cercato di giocare, di arrivare in porta, abbiamo pure calciato tanto e niente, stiamo cercando di vincere che è quello l'importante. Sì, però la squadra sappiamo che abbiamo potuto fare meglio in altre circostanze, quindi dobbiamo essere consapevoli che potevamo fare di più magari. Quindi sì, siamo dentro tutto siamo con 20 punti, però magari avremmo potuto fare qualche puntino in più. Un gol contro l'Ascoli per te, ti manca un po' la gioia del gol? Sì, un po' sì perché più ci penso meno arriva perché lo sto cercando da un po' di tempo, però penso che giocando così deve arrivare per forza tra poco perché stiamo cercando di essere più offensivi, di giocare la palla e spero ci arrivi presto. Sabato a Cittadella, partita difficile contro una squadra che aveva iniziato molto bene il campionato e poi ha avuto una flessione negativa, vi hanno dato tre sconfitte. Sì, il Cittadella è una squadra molto forte, ha cominciato molto bene, sono stati bravi perché c'erano tanti giocatori che hanno giocato come noi la Lega Pro e però magari loro avevano la tranquillità che noi non abbiamo. Poi pure in casa sono abbastanza forti, hanno vinto pure con il Verona in grande forma e niente, però noi abbiamo bisogno di confermare le partite che veniamo facendo e niente, sarà una bella partita. Senti, l'ultima cosa, auguriamoci che si sistemi anche questa vicenda societaria che va avanti da troppo tempo. Sì, sarebbe bello che sia ora di finirla veramente e si possa concludere perché abbiamo tutti bisogno di un po' di tranquillità.